La vittoria consecutiva, un po' di sofferenza nel secondo quarto dove vi siete fermati in attacco, poi avete fatto 30 minuti di grande intensità. Allora, guarda, noi abbiamo strappato più volte, parziali di questa partita, siamo partiti subito bene, abbiamo subito tantissimo nel secondo quarto, soprattutto in attacco abbiamo fatto un punto negli ultimi 5 minuti. Siamo ripartiti forte, Giulianova è rientrata perché giocare qui non è un campo assolutamente facile, è una squadra molto forte, lo dimostrano i punti in classifica nonostante i problemi dal punto di vista fisico che questa squadra ha avuto, ma devo dire che devo fare i complimenti ai ragazzi che nonostante qualche ingenuità di troppo che dobbiamo assolutamente eliminare, abbiamo portato a casa una partita veramente importante e con gli attributi. Secondo anno consecutivo alle final eight, Stefano? Manca ancora una partita, quindi ne parliamo il 30 dicembre, però sono contentissimo di quello che stiamo facendo, l'obiettivo è vicino, adesso è giusto che i ragazzi si riposino tre giorni perché è dal 20 agosto che ci siamo fermati pochissimo, voglio ringraziare lo staff che mi ha permesso di rimettere in campo Poti perché negli ultimi tre giorni non si era allenato, causa una brutta distorsione, ma sono davvero contentissimo di questa vittoria perché dimostra ancora di più il volo della nostra squadra. Grazie